Siamo alla metà del mese di dicembre, quello che vedete è un albero caco e guardate quanti uccelli merli che vengono a mangiare i cacchi con questo freddo. Ci saranno una quarantina di merli, poi qualche codibugnolo, passaro mattugia, stanno litigando per prendere i cacchi più belli perché ce ne sono pochi ancora sulla pianta. E' una manna per loro, per loro avere questi cacchi da mangiare a metà dicembre con questo freddo sotto zero. Con queste immagini amici vi saluto, dall'Istanela avete visto la pianta di caco con i cacchi che mangiano i merli. Grazie. Grazie. Grazie.